Una nuova sinergia è nata nell'ambito dello sport pistoiese. La scherma pistoia infatti in quest'anno di crisi dovuta alla pandemia si potrà avvalere del sostegno di Chianti Banca che di fatto aumenta la sua presenza sul territorio sponsorizzando un'altra realtà sportiva importante come quella del presidente Luca Magno. Francamente Chianti Banca ormai ha preso come sua mission proprio questo, cioè una banca che si muove nell'ambito di quella che è la cultura, di quello che è lo sport e più in generale le dinamiche giovanili. Nel momento in cui il presidente della scherma pistoia, l'avvocato Magni ha contattato la nostra banca abbiamo visto di buon occhio questo affiliarsi e iniziare a fare un percorso insieme anche perché secondo noi è proprio uno di quei settori che al massimo potrà far comprendere quella che è veramente la missione della Chianti Banca. Una bianca di territorio, una banca vicino alle persone, allo sport minore e da ultimo voglio dire merito alla scherma pistoia perché si sta impegnando anche con tutto quello che è il discorso dell'impegno dei diversamente abili, quindi tutto il discorso paralimpico e quindi questo a maggior ragione fa sì che Chianti Banca abbia fatto questa scelta. Le attività agonistiche della scherma pistoia sono appena ripartite con i campionati regionali di Carrara nell'attesa di riprendere in mano tutti i progetti, soprattutto quelli sociali, dopo la sospensione a causa Covid. Siamo ovviamente contenti e orgogliosi che Chianti Banca abbia aderito alle nostre richieste, al nostro progetto che come spesso dico è un progetto molto ampio perché al di là dell'aspetto agonistico che ovviamente ci preme, insomma siamo una società sportiva, è anche un progetto di natura inclusiva, di natura sociale, abbiamo l'attività dei paralimpici e soprattutto siamo veramente in attesa di poter ricominciare anche il nostro progetto autismo che purtroppo si è dovuto interrompere per le ragioni che tutti conosciamo.